Ci siamo! Ci siamo! Nel 2010 l'Italia passa al digitale. 18 milioni di italiani stanno per ricevere una radio con tanti programmi in più, oltre a quelli di sempre. Più intrattenimento, più musica, più informazione, più micchiate, con il vataggio che anche tu ora potrai perdere più tempo durante l'orario di lavoro. E tutto in un unico ambiente digitale, gratuito e facile da usare. Noi ci siamo! Vieni che tu su Spreaker.com Benvenuti a tutti a Medley Benvenuti a tutti e benvenuti sul nuovo canale radio di Ginger Gatti a Pidenza in via Cabur 55 Centro Storico. Su questo canale cosa troverete? Troverete tutte le novità a prezzi particolari. E quindi vi aspettiamo nel nuovo store in via Cabur 55 a Pidenza.